Oggi nell'intervento mi è stato chiesto di parlare quali opportunità ci sono per finanziare la formazione per le imprese e i professionisti del settore delle costruzioni e soprattutto che scenari ci troveremo davanti nei prossimi mesi per quanto riguarda queste opportunità. Elencherò un piano formativo che è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, il piano Green Me, all'interno del quale già dal 2016 avevamo pensato di realizzare progetti di formazione sul BIM dedicati agli specialisti e ai professionisti. In ambito europeo siamo stati titolari di progetti che hanno determinato nuovi curricula sempre nel settore delle costruzioni dove il tema del BIM è stato particolarmente ricorrente. Grazie a tutti!